Amici sportivi all'ascolto, amanti del calcio 5 nostrano, regionale e non solo, siamo qui al centro sportivo di Aprilia per la undicesima giornata del campionato di serie C regionale la coccinella torna sul campo amico e questa sera affronta il Real Torrezza Pensa destra verso sinistra, inizia in questo istante l'attacco della coccinella, non riesce a bloccarla Bischi e Campanelli Giondi prova la fiondata, il tiro positivo, Aiello ancora sul pallone, l'attacco con Campanelli ci prova adesso, riuscendoci ancora, subito prova ad andare a capovolgere l'azione Troncacci, direttamente in avanti cerca Bischi che mette giù il pallone, lo stoppato, prova la conclusione però Fabrizi, Troncacci, Campanelli, anzi è Di Lorenzo, prova il tiro di Bischi, Campanelli alza verso Aiello con lo stop, si porta avanti un po' troppo il pallone con il petto Bischi, stoppa il pallone, lo mette giù con Di Giacomo, Troncacci, Campanelli, poi in mezzo il piattone si alza sopra la traversa della giocatrice Bischi Fabrizi, adesso va a recuperare Miccio, scambio con D'Alessio, il tiro fuori misura poi Nobile, Mannozzi, lancio lungo, cercando Bellone, l'arpione al pallone, Miccio un 3 contro 2 D'Alessio, prova la conclusione, respinta, Estrinati il gol della Coccinella è dell'1 a 0 con Bischi, Aiello, prova la conclusione lo perde con Nobile che se ne va via anche a Di Lorenzo che poi ripiega subito in copertura adesso poi lo scambio con Estrinati, prova la conclusione e non arriva all'ultimo istante il tap-in di Aiello direttamente in avanti, Campanelli con la testa, la mette giù attende Di Lorenzo l'arrivo di Aiello, poi lo scambio, c'è Campanelli la possibilità e si perde nell'attimo in cui potrebbero abbattere la rete, molto meglio Campanelli si gira, se ne va intanto Aiello la possibilità per andare a calciare lo fa ma esce il portiere ospite Giondì prova la conclusione in due tempi, Fabrizi non è perfetto se ne va Bischi, a Giondì, adesso via e c'è il pareggio un errore difensivo proprio sulla rimessa laterale poi si ferma, la dà all'indietro senza guardare fortuna per lei che va a buon fine, ancora riesce a scambiare con Di Lorenzo la messa in mezzo e poi Campanelli esce Fabrizi Giondì la puntata e si salva Fabrizi no Di Lorenzo e invece Bischi a ripartire ferma il pallone Miccio la scivolata proprio di Miccio e poi Avarone su Milani Strinati e via centrali carica il tiro che non trattiene Fabrizi in mezzo per Gattulli prova Strinati sale a sinistra si accentra pronta per andare a caricare il tiro lo fa Aiello prova la fiondata proprio sulla linea di porta trattenuto ancora Aiello Bellon in mezzo il tiro di Bellon che in avanti Bannozzi c'è Aiello un'autostrada per lei il tiro Fabrizi recuperare Aiello ancora per vie centrali se ne va con Di Lorenzo la possibilità è un 3 contro 0 e la possibilità di Miccio mette il pallone in mezzo Aiello non allunga il piede gli fa cenno se ne va molto bene Miccio prova l'esterno fa tu per tu con Fabrizi Mannozzi alza direttamente in avanti per Troncacci Di Lorenzo c'è davanti Campanelli per la possibilità del piattone dopo il tiro di Campanelli sulla ribattuta va via anche Mannozzi è il piattone vincente di Nobile sull'assist perfetto di Mannozzi Giondi protegge palla ancora la possibilità per Di Lorenzo la messa e mezzo e non ci si può veramente credere c'è Troncacci sul pallone e la manda fuori Strinati e poi il tiro la possibilità la respinta e poi scivola a terra Di Lorenzo Aiello che recupera Strinati il tiro con Campanelli ancora con Mannozzi ferma il pallone Campanelli per Di Lorenzo il tiro ancora fuori di un nulla mente straordinaria adesso non cascare finisce qui Real Torzapienza batte la coccinella per 2 a 1 Torzapienza per Di Lorenzo Grazie a tutti.